Ben trovati. Quando si parla delle professioni che hanno a che vedere con la comunicazione, il giornalista, il pubblicitario, colui che lavora con vari ruoli all'interno di un'emittente televisiva, radiofonica o fa il social media manager, si cade spesso in una sorta di stereotipo che potremmo definire lo stereotipo dell'innatismo, cioè ritenere che per queste professioni ci debba essere una sorta di talento naturale. Questo stereotipo a mio avviso poggia su una falsa convinzione e su un malinteso. La falsa convinzione è quella che ci fa credere, spesso lo diciamo anche per tanti personaggi pubblici, pensiamo per esempio ai personaggi politici, che il bravo comunicatore sia colui che è brillante, che ha la battuta pronta, che è un po' narciso, egocentrico, mentre questo è soltanto una dote, talvolta addirittura controproducente, perché la vera efficacia della comunicazione è capire quali sono i tuoi interlocutori, qual è il contesto in cui ti trovi e soltanto dopo capire quindi come tuo emittente ti devi rivolgere a loro. Quindi è fondamentale capire il pubblico, i riceventi e il contesto. Mentre invece il malinteso di cui parlavo prima ha a che vedere con la giusta convinzione che la comunicazione è un diritto di tutti. La libertà d'espressione è giustamente prevista nella nostra Costituzione. Tutti devono poter comunicare la propria libertà d'espressione e così come essere informati è un diritto che appartiene a tutti. Ma proprio perché preservare queste caratteristiche proprie di uno Stato democratico producono un grande eccesso di informazioni, di opinioni, di eventi che vengono raccontati, narrati, di soggetti che giustamente vogliono essere sulla ribalta pubblica c'è bisogno di qualcuno che metta ordine in quello che altrimenti diventerebbe una vera e propria babele comunicativa. Soprattutto oggi che comunicare con l'avvento dell'ambiente digitale è diventato molto semplice da parte di qualsiasi attore sociale e anche necessario per cercare di imporre la propria visibilità in un ambiente sempre più denso di, appunto come dicevo prima, informazioni, idee, opinioni tra di loro anche conflingenti. E badate questa visibilità non è soltanto la voglia di apparire, la così superficiale volontà di avere il famoso quarto d'ora di notorietà. Ma la visibilità è fondamentale per qualsiasi soggetto sociale, un'azienda come un partito politico, un ente locale come un'associazione di volontariato, un'organizzazione non governativa come una squadra di calcio, per emergere appunto in questa nebbia denza fatta da questa massa di flussi comunicativi che ci scambiamo. E per riuscire ad emergere con efficacia c'è bisogno di una buona strategia di comunicazione, c'è bisogno di qualcuno che capisca appunto quali sono i punti forti di colui che vuole emettere delle comunicazioni, di capire a chi si vuole rivolgere e di capire in che contesto opera. E questo è esattamente ciò che devono fare i professionisti della comunicazione, sia se lavorano appunto per testate giornalistiche, quindi si occupano di informazione, fanno i giornalisti, sia se fanno i social media manager, quindi gestiscono i canali social di un qualsiasi soggetto, appunto un'azienda, una band di rock and roll, un cantante piuttosto che un'organizzazione religiosa o qualsiasi altro soggetto vi venga in testa. Oramai è abbastanza evidente che anche un piccolo ristorante deve avere una strategia comunicativa se vuole stare in maniera efficace su TripAdvisor. Ecco allora che c'è bisogno di professionalità. E come si acquisiscono le decine e decine di professionalità che stanno articolando questo sempre più complesso mondo della comunicazione, si acquisiscono attraverso alcune doti che stanno diventando sempre più indispensabili. Da una parte delle doti di flessibilità, di utilità, di capacità di interpretare le situazioni in cui ci si trova. E nei corsi di scienze politiche questa duttilità è data proprio dalle interdisciplinarietà. Ed è per questo che abbiamo voluto collocare un curriculum in comunicazione nella Trennale in Scienze Politiche e abbiamo voluto attivare ormai da molti anni una magistrale, poi nel bienio successivo, di strategia della comunicazione pubblica e politica. Perché un buon comunicatore deve saper leggere la società in cui i suoi atti comunicativi vanno a porsi. E per poter leggere bene una società devi avere cognizioni di tipo sociologico, di tipo politologico, di tipo giuridico, di tipo economico, di tipo storico, di tipo linguistico, oltre ovviamente a delle competenze più strettamente inerenti le discipline di comunicazione. E deve dare anche la possibilità, mentre ti stai formando, di metterle in pratica attraverso i tirocini che nei nostri corsi sono obbligatori o attraverso le attività laboratoriali. Ma questa flessibilità, questa duttilità, si riceve anche in altro modo, attraverso una capacità di mettersi alla prova e lo stile anche sostanzialmente di molti nostri insegnamenti per acquisire quelli che nell'ambiente lavorativo oggi si chiamano i soft skills, cioè saper parlare in pubblico, saper lavorare in gruppo, saper prendere decisioni, saper prendere decisioni insieme agli altri, quindi saper gestire il proprio capitale relazionale. Anche per questo in tutti i nostri corsi trennali abbiamo già al primo anno voluto mettere dei laboratori che favoriscono proprio l'acquisizione di queste competenze. Ecco quindi sostanzialmente prepararsi alla professione della comunicazione richiede, come per tante altre professioni, un rodaggio che possa avvenire attraverso una competenza che si acquisisce nel tempo, che non è innata in nessuno ma che va affinata giorno dopo giorno attraverso i percorsi che vi ho descritto. E quindi il mio augurio è innanzitutto che voi troviate la giusta strada nel vostro percorso universitario e ovviamente ancora di più è che questa strada la possiate trovare presso di noi con questi curriculum e questi corsi di comunicazione di cui vi ho parlato a scienze politiche. e augurandovi in bocca al lupo vi saluto e spero di essere stato utile per voi. Arrivederci.